Anidride carbonica, CO2, se ne sente parlare spesso per via del buco dell'ozono, per una serie di motivazioni. Forse non tutti sono al corrente che la CO2 è anche un ottimo gas che può sostituire i classici fluidi frigorigeni, i classici freon, quelli che vengono ritenuti a ragione, responsabili del buco nell'ozono. L'evoluzione degli impianti frigoriferi negli ultimi anni si è spinta verso la ricerca di nuovi gas che limitino l'effetto serra. Questi nuovi gas sono o dei gas, diciamo così, di antica memoria, come l'ammoniaca, che di contro ha delle implicazioni notevoli dal punto di vista della sua tossicità piuttosto che infiammabilità, e, ultimo nato, la CO2. Si stanno sviluppando sempre di più, infatti, impianti di condizionamento, refrigerazione, raffreddamento, che utilizzano nel ciclo termico come gas, la CO2, l'anidride carbonica. La CO2 è un gas naturale, che quindi ha un aspetto decisamente green. Ma quali sono le implicazioni? Diciamo che dal punto di vista green è sicuramente interessante. Dal punto di vista costruttivo porta delle difficoltà realizzative. Le difficoltà sono che la CO2 ha dei cambi di stato a pressioni elevatissime. Elevatissime, parlo di 100, 120, 130, 140 bar, 70 bar, pressioni che non sono alla portata dei normali impianti di refrigerazione realizzati fino ad ora. Vi ricordo, infatti, che i gas freon normali hanno delle pressioni di lavoro massime in condensazione ai 40, 45 bar, non di più. Di conseguenza tutta la componentistica che viene utilizzata normalmente deve subire un upgrade tecnologico. Esistono già degli impianti funzionanti e quindi la componentistica evidentemente esiste già per queste pressioni, ma non a tutti i livelli di potenza. Devo dire che, per quanto riguarda i compressori, il problema è risolto. Magari non per tutte le taglie, magari non per tutte le potenze, però diciamo che ci sono già una serie di compressori che possono lavorare con la CO2. Le difficoltà insorgono a livello di raccorderia, perché chiaramente bisogna studiare dei raccordi della raccorderia delle tubazioni che resistano a queste pressioni. Chiaramente il vantaggio opposto è che a queste pressioni abbiamo dei volumi specifici molto contenuti e quindi i diametri delle tubazioni possono essere ridotti. Un altro tema importante riguarda quello che è lo scambio termico, quindi gli scambiatori, condensatori, evaporatori. In questo caso bisogna studiare degli scambiatori appositi per le applicazioni sul CO2. Possono essere dei saldobrasati come evaporatori o come condensatori, possono essere delle batterie di scambio termico quando abbiamo dei condensatori ad aria. In ogni caso si tratta di apparecchiature che vengono studiate ad hoc per questo tipo di pressioni e per lavorare con la CO2. Esiste già una gamma molto ampia per questi scambiatori che arriva anche a potenze interessanti, però sicuramente è una fase di studio e di sviluppo per queste applicazioni. Se vi interessa l'argomento, possiamo riparlarne. Buona giornata.